Nuova edizione del premio internazionale Carlo Pisacane, quest'anno chi saranno i premiati? Il professor Sabino Cassese, docente e giurista, il professore e direttore del parco archeologico di Pompei Massimo Sanna e il premio speciale del giornalismo al dottor Giuseppe Blasi che è un esponente di rilievo della nostra cultura cilentana. Perché questi due personaggi per il premio internazionale Pisacane? Due personaggi che hanno tutti e due il senso dello Stato. Il titolo dell'Alexio Brevis di Sabino Cassese è molto importante. C'è da preoccuparsi per la sorte della democrazia nel mondo? Ebbene, egli risponderà con questa sua lezione ad un interrogativo che preoccupa tutte le coscienze, non solo degli italiani, ma di tutte le coscienze degli uomini del mondo, della nostra società. Infatti questa nostra società pensa troppo al potere, al benessere, non rispetta le leggi, non rispetta gli ordinamenti, non rispetta il paesaggio. C'è davvero da preoccuparsi? Ha scritto in una sua vasta produzione libraria il professor Sabino Cassese. Davvero le democrazie devono essere rispettate. Allora, egli ha detto una grande cosa, che il giurista e i docenti, da sempre, con il loro senso dello Stato, hanno illuminato le democrazie nel mondo. I percorsi delle democrazie si sono sempre avvarsi di questi personaggi. Noi perciò li dobbiamo ascoltare. Grazie a tutti. Grazie a tutti